eccoci qua allora ditemi se si sente che così intanto vado avanti con i settaggi ma credo che si senta allora di cosa vi parlo vi voglio raccontare quello che ha riempito la mia giornata oltre alle varie cose dell'isolamento ancora fino a domenica quantomeno mi tocca essere isolato vi volevo raccontare appunto di quella che è stata la bellissima trovata che vedete su tutti i social network e su tutte le testate giornalistiche dell'azienda usl della romagna azienda che lo snami quindi il sindacato autonomo medici italiani soprattutto delle sezioni della romagna ma anche ovviamente regionale deve di cui ha chiesto le dimissioni perché ovviamente dopo un'azione del genere in un momento di grande crisi difficoltà come questa non si capisce come possa essere tollerabile sotto tutti i punti di vista quindi vedo le vostre chat direi per cui si si sente grazie del feedback anzi provo ad accedere anche alla alla chat come dire di restream allora quali sono i punti i punti sono se oggi non mi chiede di nuovo tutte le macchine gli autobus non sapete le immagini da guardare perché mi sono scordato di accenderlo prima allora cosa succede che praticamente l'azienda chiude un accordo tra l'altro un accordo che si rinnova sostanzialmente perché un accordo che c'è già da anni per la quale l'azienda aveva ovviamente un una collaborazione dei medici 118 all'interno delle strutture di pronto soccorso una collaborazione che è stata abusata francamente abusata in tutti i modi possibili e anche contro ovviamente le tutte quelle che sono le norme logiche le norme logiche praticamente che cosa succede che io poi ci ho anche lavorato in quell'azienda e anzi non era ancora azienda unica era era ancora divisa e intanto che faccio il login di qua scusate ecco che cosa succede praticamente che l'azienda ha questa collaborazione dei medici 118 di cui abusa nel senso che che cosa succede che fondamentalmente il medico 118 invece di fare il medico di 118 viene messo e ancora oggi ci sono dei colleghi che vengono inseriti a fare il il prodotto soccorso mentre il medico 118 che ricordiamocelo no convenzionato non ha neanche titolo per fare il concorso per lavorare il prodotto soccorso perché non ha la specializzazione e quindi dovrebbe andarci solo se non c'è altro cosa fa l'azienda l'azienda mette dei dipendenti a fare l'automedica quindi specialisti a fare il lavoro del del medico 118 che ha l'abilitazione emergenza territoriale e quindi si verificavano delle situazioni assolutamente demenziali e inaccettabili in cui il medico 118 con la convenzione pagato 27 euro l'ora doveva andare a fare il lavoro dell'ospedaliero in pronto soccorso in automedica o ci mettevano un ospedaliero di pronto soccorso o ancora di più si prendevano gettonisti esterni magari non so degli anestesisti addirittura da altri poli pagati a gettone quindi pagati quattro volte tanto per andare in automedica allora non si capisce questa gazzarra organizzativa che hanno messo in atto a chi poteva giovare ovviamente a chi prende il gettone in questo caso e allora e vi stavo dicendo cosa succede praticamente che l'azienda della romagna mette tutto questo bellissimo atteggiamento organizzativo in moto tutto questo caos che ovviamente fa arrabbiare diversi colleghi insomma dopo il 2016 che aveva avuto un accordo che poi era stato fatto in proroga eccetera eccetera un accordo nel quale si diceva tra l'altro che bisognava risolvere alcuni problemi che non sono stati risolti eccetera si arriva a una negoziazione nella quale si dice bene allora belli miei intanto rispettate i contratti di lavoro se uno prende il contratto per fare il 118 fa il 118 dopodiché se eventualmente avete bisogno benvenga nell'orario aggiuntivo e nell'orario dedicato dare una mano anche al pronto soccorso ma vado a fare il pronto soccorso se e solo se non c'è uno specialista che lo sta facendo perché ovviamente bisogna anche tenere in considerazione i titoli delle persone che fanno determinati lavori e quindi se c'è uno specialista è giusto o sbagliato bello o brutto piaccia o non piaccia la normativa questo dice il medico 118 tra l'altro è escluso per legge anche dalla possibilità di acquisire il titolo di formazione specialistica perché l'hanno reso incompatibile come al solito in tutti i bandi io la collega una collega di bologna abbiamo anche detto beh ascolta in tutta questa situazione vediamo che cosa dicono i giudici perché volevamo la conferma e i giudici fino al consiglio di stato hanno detto che no se vuoi prendere la specialità per lavorare il pronto soccorso bisogna che ti licenzi non fai più il 118 in convenzione fine della storia e noi abbiamo detto perfetto va benissimo allora giustamente ognuno fa il lavoro per il quale il contratto e delle necessità delle aziende sanitarie a un certo punto possiamo anche fregarcene no sostanzialmente in questo senso ma noi siamo dei professionisti seri abbiamo cura abbiamo attenzione ai pazienti e quindi se c'è un pronto soccorso deve chiudere è chiaro che gli si cerca di dare una mano però dare una mano come viene richiesto integrarsi non significa diventare carne da porco che viene utilizzata per fare tutto mentre i vari dirigenti mettono no devo dare il gettoncino qui non devo mettere questo lì no non funziona così si rispettano le posizioni lavorative si rispettano i contratti di lavoro questo è il minimo della decenza in un paese civile in uno stato di diritto ok cosa succede che quindi si stipula un accordo un accordo ben strutturato tra l'altro che ha visto la partecipazione e il consenso di diversi professionisti che dicono bene allora il medico firma e prende e ha i titoli per la convenzione al 118 fa il 118 dopodiché se vuole se se la sente perché nessun sindacato e nessuna azienda pubblica può pensare nel contesto normativo e di responsabilità professionale che abbiamo di scrivere come purtroppo alcuni colleghi in altre regioni hanno fatto che automaticamente il medico va a fare un lavoro per il quale non ha i titoli è una cosa che non si può fare non la posso decidere io che vinco pallo che ha l'idoneità al 118 va a farlo ospedaliero ma non è possibile sta roba qui quindi abbiamo detto un principio chiave che è il principio della volontarietà se il medico se la sente ha la formazione per farlo ritiene di poterlo fare è un libero professionista e quindi in orario aggiuntivo può andare a fare l'attività oppure abbiamo e qui siamo veramente venuti incontro al massimo delle cose per motivi ovviamente di negoziazione eccetera abbiamo detto va bene eventualmente se proprio ci dovessero essere tanto sappiamo che ci sono necessità possiamo anche dire che se il mezzo di soccorso è già diciamo coperto entro il 30 per cento diciamo un terzo del del tempo diciamo della tua convenzione puoi andare a dare una mano e fare però in maniera dedicata al medico di pronto soccorso con una quota economica aggiuntiva ok ma sacro santo il diritto del medico che non se la sente o che non vuole per i motivi che a nessuno devono interessare ma firma il contratto di lavoro per fare il medico 118 insomma se io che ne so faccio il ginecologo non è che vado poi mi assumi e poi vado a fare neurochirurgia santa pazienza perché perché non hai il neurochirurgo non funziona così quindi cosa succede succede che praticamente la quasi totalità dei medici accettano l'attività integrata con il pronto soccorso nessuno ha dei problemi e sei medici credo su 45 su 40 un volume un numerico di circa quella quella quota lì questi sei medici decidono che loro per vari motivi fanno solo ed unicamente il loro contratto di lavoro l'automedica e poi fanno anche i turni aggiuntivi se c'è bisogno eccetera eccetera ma sempre nelle loro funzioni contrattuali sacro sante bene cosa succede che ovviamente a questo punto noi la interpretiamo come una vessazione una pressione indebita su questi sei colleghi comincia a scatenarsi una specie di shitstorm ovviamente nella quale viene detto nella quale viene detto bene allora ragazzi se scrivete per favore perché vedo che state scrivendo questi commenti che leggo qui dal gruppo snami emergenza territoriale per favore andate sulla pagina o la mia roberto pierali md o quella di snami regionale commentate da lì perché se no gli altri non riescono probabilmente a vedermi o non compare il vostro non compare il vostro nome ecco allora cosa succede vi dicevo questi sei medici decidono di fare questa roba qui e l'azienda comincia a dire no allora se loro non fanno questa cosa noi gli togliamo anche la quota regionale del contratto del 2008 che è una quota che copre delle voci che col pronto soccorso c'entrano come i cavoli a merenda perché l'accordo regionale se uno lo legge in italiano e lo legge in italiano sensato dice per i compiti che c'è scritto nel vecchio accordo articolo 95,3 che erano nei momenti in cui sei libero collabori in attività di primo intervento nelle strutture territoriali o nel pronto soccorso eccetera che vuol dire collabori e primo intervento vuol dire lavori con e quindi lavori dando una mano al collega ma non è che fai il doppio lavoro anche perché quella quota quell'accordo che cosa prevedeva una quota forfettaria mensile di 900 euro che diviso 164 ore in un mese portava la tariffa oraria del medico a circa 28 euro l'ora ok nel 2008 28 euro l'ora nel 2006 per far l'ambulatorio di continuità assistenziale di euro allora gliene davi 32 allora nessuno né nel 2008 né oggi può firmare che quei medici facevano due lavori contemporaneamente al prezzo di uno fermo restando che qui ancora ulteriori violazioni perché se c'è scritto nei momenti liberi dai compiti propri dell'incarico non si capisce come mai certa gente non ha mai neanche toccato l'ambulanza nell'azienda romagna ok ed è stata messa alcuni facevano gli ecografisti al cup tanto per intenderci cosa succede succede che ovviamente l'azienda comincia a dire vi tolgo anche quella quota lì perché perché non vi integrate ma in realtà questi medici fanno esattamente tutti i compiti che sono elencati in quell'articolo 95,3 oggi nel nuova cn sono gli stessi 65,2 li fanno tutti l'automedica la fanno ed è uno dei compiti aggiuntivi l'attività di collaborazione con le strutture quando ci sono e quando e dove ci sono li fanno ovviamente che non significa che fanno il medico dps pagato un quarto questo è il punto intanto poi ovviamente le manifestazioni sportive fieristiche culturali tutto quello che serve c'è poi c'era appunto l'auto la motome e il soccorso in mare che è stato inserito adesso che lo fanno ovviamente perché quando serve ci vanno allora in tutto questo scenario che cosa pensa di fare l'azienda della romagna scrive una mail e dice non vi do più queste cose qui a chi ha solo voi sei no un atteggiamento proprio mirato nei confronti di perché poi io voglio anche dire se tu dici non si sono integrati e quindi se anche tu ipotizzassi nel delirio psicotico che sta accogliendo questi funzionari se anche tu ipotizzassi che queste persone non hanno adempiuto a un compito convenzionale ok ammesso che tu possa dimostrare che ovviamente non lo dimostra perché non è vero perché hanno lavorato come dei matti hanno sono fatti un culo così con delle centinaia di ore aggiuntive ammesso che tu possa anche pensare questa roba qui come fai a scorporare un compenso che comprende anche tutte le altre cose che loro hanno fatto sacrificalmente durante il loro dovere tutti i tanti giorni quindi questa azione è ovvio che oggi ha fatto imputtanire tutti me compreso perché è un'azione intollerabile che ovviamente i medici giustamente hanno detto basta adesso basta finisce in tribunale ma finisce in tribunale non solo per la parte di recupero delle somme finisce in tribunale anche per il comportamento il danno agito nei confronti del medico perché questa cosa è intollerabile ma non si fa poi sull'azienda si fa sulle persone che hanno deciso di agire questa cosa ben diffidate dal farlo con una documentazione molto completa questo è quello che è successo oggi nell'azienda della romagna un precedente che è intollerabile intollerabile del tutto vediamo i commenti romano dice in romagna hanno riflettato questo aiuto hanno sputato sopra le disponibilità per lavorare in pronto soccorso fino a 48 ore oltre il monte orario o le fai e zitto o ti taglio lo stipendio dopo questo ricatto accetta la stragrande maggioranza ecco diciamo che questo atteggiamento questo atteggiamento che l'atteggiamento che dire dirigenziale è già una vergogna di per sé proprio anche dire che questo non è una roba da dirigenza questa è una roba una vergogna una vergogna veramente manageriale quando uno fa una roba del genere l'unico effetto che ottiene è che tutti questi colleghi poi a luglio vanno a fare degli altri lavori giustamente prendono le zone carenti e vanno a fare altro e poi gli altri si arrangiano con il loro pronto soccorso e purtroppo anche con loro 118 perché questo è il risultato distruttivo che un atteggiamento di questo genere può ottenere in un momento difficile come mai per il servizio sanitario nazionale nella carenza di professionisti è una roba irresponsabile perché ovviamente non fa poi incazzare solamente le persone colpite da questa cosa qua ma fa incazzare anche tutti gli altri perché ovviamente è la prova provata che nel momento in cui si fanno delle intese queste vengono sistematicamente usate come carta d'accesso perché nel momento in cui tu dici per quella funzione del pronto soccorso io ti pago una cifra diversa e quindi la voce è separata non puoi viva dio sostenere che tu invece di quella cifra non l'hanno mai presa gli vai a togliere anche quella di base questo non lo puoi sostenere è una cosa vergognosa vergognosa e intollerabile questa è la verità e quindi ovviamente vi terremo aggiornati ma tutto questo questo putiferio io ovviamente qui faccio il la parte sindacale di quello che deve spiegarle cose ma è bene per chi guarda questo canale indipendentemente dal fatto che sono i medici che sono i professionisti che ovviamente seguono maggiormente questa è bene che la vedano anche i cittadini sta roba qua perché santa pazienza questi colleghi che sono stati costretti poi negli anni a lavorare in funzioni ospedaliere senza avere la tredicesima senza avere il tfr senza avere i contributi previdenziali alla stessa quota percentuale senza poter maturare il titolo per lavorarci senza tutte queste robe perché perché qualcuno che doveva organizzare i servizi nascondeva la polvere sotto il tappeto e pensava che comunque questa gente che non aveva di fatto la possibilità di ribellarsi sostanzialmente fino a che c'è appunto stata la carenza oggi gli unici che sono rimasti lì sono quelli che nel sistema ci vogliono lavorare nel sistema di emergenza che ci credono perché ci vuole un imbecille a lavorare per queste tariffe se non ti piace quel lavoro questo è il punto chi ci lavora è perché comunque ha una certa come dire propensione ha voglia di fare quel lavoro lì perché non c'è oggi nessun medico che non abbia delle opzioni economicamente più appaganti e da un punto di vista di fatica anche fisiche di turnistica migliori di quelle dell'emergenza urgenza non ce n'è uno chi rimane a lavorare in emergenza urgenza oggi 24 giugno 2022 lo fa perché gli piace ma poi a un certo punto si rompono le balle anche loro di vivere in un mondo in un mondo aziendale dico o comunque in unità dove questo è il clima dove questa è la gestione dove questa è la vessazione che devi subire perché i direttori generali e i primari e tutti quei devono capire che oggi non hanno assolutamente il controllo del personale non ce l'hanno perché il mercato offre il triplo delle opportunità con pagamenti molto superiori e quindi dovrebbero baciarsi i gomiti e trattare benissimo i pochi che rimangono lì nell'emergenza urgenza e invece quello che vi ho appena raccontato è il livello di gestione a me personalmente fa incazzare a morte questa cosa mi fa incazzare a morte perché è intollerabile che dei professionisti che lavorano poi guardavo appunto i cedolini che mi hanno inviato oggi con dei monti orari di 200 ore c'è gente che fa ore notti festivi doppi turni perché ovviamente non c'è e si deve sentire gestire così è ovvio però queste sono dichiarazioni di guerra e viva dio la guerra questa volta l'hanno iniziata loro ma viva dio la finiranno i medici saluti